La mia terra di fiabe e magia, credi a me, ai capelli che vanno su e giù, e ti trovi in galera anche senza un perché. Che barbarie, ma è la mia tribù! Brilla il sole da sud, soffia il vento da nord, c'è un'intensa complicità. Sul tappeto ravà, dove andare lo sa, nelle notti d'oriente andrà. Le notti d'oriente, tra le spezie e i bazar, sono calde lo sai, più calde che mai, ti potranno incantà. Le notti d'oriente, con la luna nel blu. Non farti abbagliar, potresti bruciar, di passione anche tu. Ah, salam, buonasera a voi, miei degni amici. Prego, prego, avvicinatevi. Esagerati, così è troppo. Ecco, benvenuti ad Agrabah, città del mistero, città magica. Con la migliore mercanzia di qua del fiume Giordano, grande svendita oggi su Coraggio. Guardate questo piccolo capolavoro, tra un arghilè e una caffettiera, e fa anche le patatine fritte. Infrangibile. Non si ro... Si è rotto. Oh, e questo qui è la prima volta che ne vedono intatto parola d'onore. Un famoso salvabontà del mar morto. Sentite? Funziona. No, no, non andate via. Ho capito, a voi interessa soltanto la merce eccezionalmente rara. E allora credo proprio che troverete molto interessante questo. Non vi fate ingannare dall'aspetto comune. Come per tante cose non è quello che si vede, ma quello che c'è dentro, che conta. Non è una lampada come le altre. Pensate che una volta cambiò il destino di un giovane. Un giovane che come questa lampada valeva assai più di quanto non apparisse. Un diamante allo stato grezzo. Volete che vi racconti la sua storia? Comincia in una notte nera. Con un uomo in nero che attende, con in mente uno scuro proposito. Contretato da qua massacreilta, con in mente uno scuro proposito grossi e parlando ris sürтese. Grazie.